Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it La malattia renale cronica è una condizione di alterata funzionalità dei reni che colpisce circa il 10% della popolazione, ma è in costante aumento Eppure uno stile di vita sano e la diagnosi precoce permettono di evitare i danni più gravi che costringono a dialisi e trapianto La diagnosi precoce è possibile grazie alla semplice misurazione nel sangue e nelle urine della creatinina Ma cos'è la creatinina? Quali sono i valori normali di riferimento? Quali sono le cause e i sintomi di valori alterati e come si può intervenire? A tutte queste domande rispondiamo in questo video, se ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale La creatinina è una sostanza di scarto prodotta dal muscolo durante la contrazione a partire dalla creatina La creatinina è sintetizzata dal fegato oppure può essere assunta sotto forma di integratore come avviene nel caso degli sportivi Ed è una fonte di energia per il muscolo La creatinina invece non ha alcuna utilità per l'organismo Tutta la quantità prodotta dal muscolo viene riversata nel sangue e filtrata dai reni nei glomeruli Arrivata nei tubuli non viene riassorbita come avviene ad alcune sostanze che possono essere ancora utili per l'organismo Ma viene convogliata nelle vie urinarie per essere eliminata con le urine Pur non avendo alcuna utilità per l'organismo, il test della creatinina è un ottimo indicatore di come stanno funzionando i reni La misurazione della creatinina viene prescritta alle persone che soffrono di patologie che predispongono al danno renale Come il diabete, l'ipertensione e le dislipidemie Ma anche a persone perfettamente sane a scopo preventivo In particolare al di sopra dei 50 anni è consigliato eseguire questo test a cadenza annuale o al massimo biennale Il test può essere eseguito anche quando è necessario assumere farmaci o eseguire procedure mediche Come ad esempio il mezzo di contrasto durante le risonanze che possono essere nefrotossiche Ovviamente viene eseguito quando si manifestano i sintomi di un'alterata funzionalità renale Questi sintomi possono includere gonfiore al volto, alle caviglie e ai polsi Difficoltà ad urinare con dolore ed urina scura Dolore alla schiena nella zona dei reni, pressione alta E difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno e stanchezza cronica La misurazione della creatinina può essere effettuata nel sangue e nelle urine E i dati ottenuti possono essere correlati per ottenere la clearance della creatinina Vediamo quindi quali sono i valori considerati normali La concentrazione di creatinina nel sangue o creatininemia si misura su un campione di sangue venuso Prelevato dopo almeno 8 ore di digiuno, quindi preferibilmente la mattina prima di colazione La sera precedente l'esame si consiglia di evitare sforzi eccessivi e il consumo di carne E comunque se si stanno assumendo farmaci o integratori come la creatina che potrebbero falsare le analisi Bisogna avvisare il medico Da questa analisi è possibile ottenere anche un altro parametro indicativo della funzionalità renale La velocità di filtrazione glomerulare stimata La concentrazione di creatinina nel sangue si misura in milligrammi di creatinina per decilitro di sangue I valori variano in funzione di età, sesso, peso e altezza della persona Nei bambini e nelle donne, ad esempio, è normale avere valori più bassi rispetto agli uomini A causa della minore massa muscolare Così come è normale che una persona anziana o sedentaria abbia valori più bassi rispetto ad uno sportivo In generale i valori normali per gli adulti sono compresi tra 0,8 e 1,2 milligrammi per decilitro Nello specifico però bisogna sempre tenere in considerazione i valori di riferimento forniti nel referto Dal laboratorio dove sono state effettuate le analisi Valori di creatininemia più bassi del normale non sono comuni e generalmente non destano preoccupazione Perché sono correlati a situazioni come la gravidanza, la senilità o una dieta povera di proteine Al contrario, valori troppo alti di creatinina nel sangue sono indicativi di un danno ai reni A causa del quale questi organi non riescono a compiere il loro lavoro di filtraggio del sangue Le cause possono essere l'assunzione di alcuni farmaci nefrotossici Come alcuni antibiotici, chemioterapici o diuretici Alcune patologie come l'ipertensione, il diabete e l'ipertiroidismo Ma anche traumi muscolari e ustioni Elaborando il valore della creatinina nel sangue con delle formule che tengono in considerazione Anche l'età, il sesso, l'etnia, il peso e l'altezza del paziente È possibile ottenere la velocità di filtrazione glomerulare stimata Questo parametro è un'indicazione stimata, quindi basata su dei calcoli Della funzionalità dei reni e si misura in millilitri di sangue depurati al minuto I valori considerati normali sono compresi tra 90 e 120 millilitri al minuto Se si vogliono affinare le indagini ed avere delle indicazioni più precise Basate su dati e non su dei semplici calcoli Si effettua la misurazione della creatinina nelle urine raccolte nell'arco delle 24 ore Per effettuare correttamente l'esame, il paziente deve gettare via le prime urine del mattino E da quel momento in poi effettuare la raccolta delle urine prodotte In un contenitore del volume di 2 litri e mezzo Le ultime urine raccolte saranno le prime del mattino successivo La concentrazione di creatinina nelle urine o creatininuria Si misura in milligrammi di creatinina nelle 24 ore Anche in questo caso i valori possono variare molto in funzione delle caratteristiche del paziente Con una media che si aggira intorno agli 800 milligrammi nelle 24 ore Ma che può arrivare anche a 2000 milligrammi nelle 24 ore Come sempre bisogna tenere come riferimento i valori indicati dal proprio laboratorio di analisi Una volta misurata la concentrazione della creatinina nel sangue e nelle urine È possibile calcolare la clearance della creatinina Che è un indicatore preciso della funzionalità dei reni Perché indica quanti ml di sangue vengono depurati in un minuto dai reni E infatti si misura in ml al minuto Anche nel caso della clearance della creatinina L'intervallo di normalità è molto variabile Ma generalmente è compreso tra 85 e 125 millilitri al minuto Abbiamo visto che la misurazione della creatinina ci dà delle informazioni molto importanti sulla salute dei reni Con dei valori che sono variabili in funzione delle caratteristiche del paziente L'interpretazione dei risultati è sempre fatta dal medico Che tiene in considerazione anche la storia clinica del paziente Se hai domande lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di Semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con ti